Salve a tutti ragazzi, io sono Alberto e benvenuti in questo nuovo video di mod Oggi vi andrò a mostrare la Kerbal Star System Questa mod introduce 4 nuovi sistemi solari, oltre a quello stock E va anche a modificare quello stock per renderlo un po' più simile a quello reale Unica avvertenza, questa mod è molto pesante Io ho 16GB di RAM e me ne sta consumando al 70% al momento Solo, cioè, nel senso, sistema operativo più Kerbal Però, ecco, sì, un bel po' di RAM Comunque, partiamo da Kerbal, il Kerbal è stato leggermente modificato per renderlo simile al nostro sole Quindi stella di tipo G2 Poi abbiamo Moho, che è stato leggermente modificato per renderlo più simile a Mercurio Abbiamo una geologia leggermente rifatta Poi abbiamo Eve, Eve è stato cambiato il colore della falsfera E anche la temperatura superficiale, credo Credo sia stata leggermente modificata l'atmosfera Per renderlo molto più simile a Venere Poi abbiamo Kerbin Beh, Kerbin non servono spiegazioni Poi abbiamo la Luna La Luna è stata completamente rifatta, come vedete ha una nuova geologia Qui un bellissimo mare E ha un'orbita Sì, l'orbita è sempre purtroppo perfettamente orizzontale Quindi serve stato bello vedere anche una minima inclinazione, giusto per dare un po' di realismo Poi abbiamo Minmus Minmus anche lei leggermente modificata dal punto di vista della geologia E dell'estetica Poi abbiamo Duna Che è stato modificato Per essere terraformato Quindi in pratica Abbiamo degli oceani E anche vegetazione in generale E l'atmosfera non mi sembra sia stata cambiata Mi sembra sia uguale Poi abbiamo anche Bop Qui in orbita E anche lui Poco lievemente cambiato E Gilly Queste qui servono a simulare Phobos e Deimos Le piccole lune di Marte nella vita reale Poi abbiamo Al-Alin Al-I-N-I-M-N Al-N-I-M Non so come si pronuncia Questa 8 km è probabilmente un limone Ed è una cometa Questa è la sua orbita molto ellittica 0,003 G Quindi è probabilmente impossibile da atterrarci Praticamente impossibile da atterrarci Poi abbiamo Vern Questa è probabilmente Di quel momento di Cerere Diciamo 27 km Niente atmosfera 0,025 G Poi abbiamo Il nostro caro amico Il nostro caro vecchio amico Dress Poi abbiamo Jull Che è stato un po' modificato Per farlo sembrare Giove Quindi abbiamo anche degli anelli Molto Molto lievi E un polo nord E polo No, più il polo nord esagonale Anche se quella è più Saturno Però Ce l'abbiamo anche su Giove Poi abbiamo Pol Che è diventato Io Se non erro Dovrebbe essere io, sì 182 km Atmosfera È stata aggiunta Atmosfera molto lieve 10 km 0 atmosfera Nel senso che non mi indica Quanta pressione c'è Late è diventato È diventata Europa Sempre 10 km 0 atmosfera Poi abbiamo Tilo 20 km 0 atmosfera Anche lui Val Lui Val invece niente Atmosfera Comunque come vedete Anche i pianeti stock sono stati Poco poco modificati Poi abbiamo Wun Questo è Oh, ho di lag Questo è praticamente Saturno 5823 km 500 km D'atmosfera Le lune tutte belle in fila Interessante La prima è Geln Tra gli anelli 9 km Gravità Praticamente inesistente 00163 Poi abbiamo Nisme 10 km 000648 Ilu Eccola qui Ilu è Stato leggermente modificato Per farlo sembrare Esseladus 25 km 0013 Tate 53 km 00147G Desnim 56 km 002G Circa Reia 77 km 002G La Lajo 256 km Atmosfera 94 km 1,45 Atmosfera E questo è Praticamente 9,5 metri Sono pure Sono pure i laghi Di Metano E poi Qui in fondo C'è Ike Che è un po' Annerito Da un lato 73 km 0,134G Qui è finito Sì Passiamo al prossimo Abbiamo Oran C'è uno show Di laser Oran Oran Prendete Urano 2500 km E 250 di atmosfera Poi abbiamo Nila 15 km 004G Un Unil 24 km 008G Im 58 km 0023G E Trito 135 km 10,8 km E qui invece Mi indica la pressione 0,0002 atmosfere Ok Non so se Era proprio necessario Scriverlo però Vabbè Poi abbiamo Kel Kel è praticamente Plutone Quindi abbiamo Il pianeta principale 118 km Come vedete Il mod Era più o meno Sì è più o meno Ispirato a La mappa vera Di Plutone Non mi sembra Tanto uguale Almeno non c'è il cuore Quindi no 118 km 0063G Anche qui Atmosfera Leggerissima 30,8 km E poi abbiamo Caronte Anche qui Ispirato a quello vero 61 km 002G Niente atmosfera Qui in fondo Invece abbiamo Nate Questo Credo sia Eris Ma non ne sono sicuro Almeno ispirato A Eris 165 km E sempre Atmosfera Di 10 e qualcosa Kilometri Leggera Quindi Questo è il sistema Solare Normale Passando ai prossimi Abbiamo Il primo è Kirb Questa è una stella Un po' più piccolina Del sole 50.000 km Di diametro Con vicino Vail Gigante gassoso Che è davvero Vicinissimo Temperatura Supervisuale 1200 Kelvin Dunque 7600 km Atmosfera Di 350 Poi abbiamo Esle Esle Questo Anche lui È pianeta Di lava Fuso Non so se quelli lì Sono effettivamente Laghi Di coloro rosso Però 720 km 10 km Di atmosfera Leggerissima 1000 Passagradi Kelvin Superficiali Alva 450 52 km Di atmosfera 04 Atmosfera 075 g Mork 118 km 35 km Di atmosfera Lieve Blalo Questo è un Pianeto che mi piace molto Esteticamente dal punto di vista Della Geologia Per via di questa Conformazione molto Particolare Credo sia un vulcano 752 km Un po' più grande Di Kerbin 1,2 Atmosfera 1,18 g 81 km Di atmosfera E lane 121 km Atmosfera Qui 0 metri Ok 0,11 g Questa è la sua luna E di altre lune Abbiamo Rav Questa qui ha Due piccole Due piccole cosette Qui al palo nord e sud Ma penso sia un bug 21 km Gravità parentina Esistente Alar 165 Con 005 atmosfera 21 km di Atmosfera 0,15 g Poi abbiamo Qui più lontano Gigante gassoso Mirn 5700 km Con Dimune Hesmin 172 Con 0,18 g Sulp Sulp 256 km 60 Di atmosfera Di atmosfera 0,95 Atmosfera 0,28 g Tate 330 km 71 km Di atmosfera 0,72 atmosfera 0,42 g Vasp 230 km 45 di atmosfera 0,29 g E pressione Quasi inesistente Irnil Niente atmosfera 192 km 0,22 g Poi Elno 984 km 90 di atmosfera Questo è Prima di te un Mega Mega Pianeta Roccioso 141 g 0,5 atmosfera E questo è Il sistema Dovrei aver finito Il sistema Di Vael Giusto? Ok Poi c'è Kernim Kernim Abbiamo una Nana rossa Meno di 10.000 km Di diametro Con Attorno Dalne 792 km 1,26 g Erel 1000 km 30 km Di atmosfera 1,57 g Super terra Lane Ancora questo Dei vulcani Che Provinte vanno Quasi fuori Dall'atmosfera Come vedete Sono altissimi 1300 km 100 di atmosfera 3 atmosfere di pressione 1,66 g Alimn No Alim Scusate 699 55 di atmosfera 0,35 Atmosfera Qui è Bloccato Tidalmente Probabilmente Perché un lato È completamente Ghiacciato L'altro È sciolto E infine C'è Dunem Nome Molto Fantasioso 280 km 70 D'atmosfera 0,29 g Con Um 10 km Questa è una piccola Luna E questo è un altro Sistema finito Poi abbiamo Cormin 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 è un pianeta Gassoso 8000 km 500 in atmosfera Purtroppo È Senza niente Poi abbiamo Poi abbiamo Corlon Anche lui Senza niente E poi Infine The Hall Questo è 12 milioni di km Di diametro Gravità superficiale Di 0,0009 2g Sfera di influenza Infiniti km Questo dovrebbe essere Un buco nero In teoria Almeno in teoria No Ho dimenticato un sistema Oddio Quanti sistemi ci sono Troppi sistemi Forse sono più di 4 Questo è un sistema binario Tra una Gigante Azzurra E una Questa Una nana rossa E questo sistema binario Ha come Pianeti Lirne Gigante gassoso 3000 km 1,1 g Rilna 878 51 km Di Atmosfera 0,89 atmosfere 142 g Aquel Questo è Il pianeta di interstellar 1200 km Tutta acqua 276 g Ok Mesmo Gigante gassoso 7300 km 223 g E infine Si ritorna Kerbal Io non ho più voce Adesso Dunque Questa mod Aggiunge A dire il vero Più del Più 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 stelle Del previsto Anche se Alcune di loro Non hanno Pianeti Più Un buco Nero Barra Cosa Mistica Intanto qui c'è un misto di lens flare Incredibile Quindi Mod Molto interessante Anche dal punto di vista Della geologia dei pianeti nuovi Ancora in via di sviluppo Quindi verranno aggiunte nuove Nuove lune Nuovi pianeti E ribilanciate quelli esistenti E Sì ovviamente per Navigare in un sistema del genere Vi serve per forza Una mod Di ad esempio Teletrasporto Velocità Tipo al QBR Qualcosa che vada più veloce Della luce Perché altrimenti è Sostanzialmente impossibile Raggiungere Quindi Un saluto dal team di Carabellitalia Ad Alberto